Ha preso servizio lo scorso 5 di settembre il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Teramo, il tenente colonnello Pasquale Saccone, al posto del colonnello Emanuele Pipola al quale è stato affidato l'incarico di capo ufficio personale del comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molisi. Il colonnello Saccone come ultima esperienza è stato capo sezione dell'ufficio relazioni con il pubblico del comando generale dell'arma. Il quadro che ho è quello che mi ha tramandato il mio predecessore, il signor colonnello Pipola, unitamente a quello di confronto conseguito rispetto alle autorità principali che in questi giorni ho incontrato, cioè Sua Eccellenza il Prefetto e il signor Questore. Il quadro che ho è naturalmente il procuratore di Teramo, è quello di un livello di sicurezza sicuramente importante, sicuramente già consolidato. Il mio compito principale sia quello di non abbassare assolutamente la guardia e di continuare su questi livelli. Questo ci comporta, come sto cominciando a dire ai miei collaboratori, anche sulla base dei loro suggerimenti, perché sono sempre molto attento nel seguire le indicazioni che i miei collaboratori, gli spunti investigativi che i miei collaboratori offrono, comporta che chiaramente gli approfondimenti saranno rivolti a tutte le realtà che interagiscono su questo territorio, dalla persona fisica a quella alle principali aziende, i principali imprenditori che lavorano su questo territorio. Saccone nell'usuale presentazione con la stampa si è detto molto orgoglioso di essere a Teramo, soprattutto perché rappresenta la prima volta capo di un comando provinciale. Sono particolarmente orgoglioso di questo risultato raggiunto e quindi cercherò di fare al meglio il mio compito per la mia istituzione di appartenenza.